Elisabetta Liberatore entra nell'elenco dei poeti italiani contemporanei. La Pratolana, dipendente della Banca di Credito Cooperativo di Pratola Peligna, dove svolge il ruolo di quadro direttivo e starà selezionata per l'inserimento con sette sue poesie nell'Enciclopedia dei Poeti Italiani Contemporanei, pubblicata da eletti editore, disponibile a primavera del 2019 in tutte le librerie italiane. La nuova edizione dell'Enciclopedia raccoglie alcune tra le più interessanti voci poetiche presenti nel panorama attuale, fornendo un approfondimento su ogni autore, comprendendo un estratto della produzione poetica e la nota biografica. Un importante riconoscimento artistico nazionale, arrivato per una passione che Elisabetta coltiva da anni, un traguardo inaspettato, il mio primo timido tentativo di propormi a un pubblico, un esordio davvero lusinghiero, è un risultato che mi incoraggia molto a proseguire nella mia passione letteraria fin dove vorrà portarmi. Esordito Liberatore che ha dedicato questo riconoscimento a Giuseppe Di Tommaso, suo docente di lettere alle superiori, suo mentore, ormai scomparso, e al padre Umberto, mio amatissimo esempio e modello, ha scritto la Liberatore, che incassa gli applausi di quanti.